A parte il nuovo contratto col 1 gennaio, sostanzialmente ci saranno consegnate a tutti noi cittadini questi contenitori con un codice a barre in maniera che ogni famiglia tramite questo codice a barre verrà identificata e per cui facendo così noi cercheremo di aumentare il discorso della raccolta di differenziate estendendola anche alle contrade. Questo diciamo è l'aspetto principale, quindi codice a barre nei contenitori, l'incremento della differenziata anche nelle contrade. È una possibile lotta anche all'evasione e comunque un controllo più completo di chi naturalmente fa la differenziata a Capo Orlando al fine di aumentare la percentuale che poi potrebbe significare anche un risparmio collettivo? Non c'è dubbio perché uno dei punti importanti è questo, dovendo ogni famiglia avere in dotazione i contenitori col codice a barre, chi non è allo stato attuale normato nella raccolta dei rifiuti deve assolutamente presentarsi verso l'ufficio, autodenunziarsi e ritirare i contenitori perché non verrà più ritirata immondizia o rifiuti diciamo meglio senza che ci sia il contenitore col codice a barre. Che tempi prevede per il regime completo di questa operazione che poi potrebbe anche portare delle premialità? Allora è previsto contrattualmente e sono sei mesi, porterà delle premialità che io dico sinceramente vengono determinate dall'aumento del numero delle persone che pagheranno, quindi dalla lotta sostanziale all'evasione che verrà fatta tramite il codice a barre e poi da alcuni piccoli diciamo dettagli come ad esempio la possibilità di poter portare il rifiuto direttamente all'isola ecologica e non lasciarlo davanti il portone di casa e questo potranno comportare delle riduzioni ma che saranno sull'ordine del 10 massimo 15 per cento e che sicuramente scusatemi sicuramente non potranno avvenire fin quando non andrà a regime il sistema di raccolta.